l'emergenza Covid-19 per aver sostenuto la fondazione ospedale Alba Bra grazie alla sua arte e per aver saputo ispirare i singoli che hanno potuto contribuire al progetto ambulatorio medico mobile un abbraccio collettivo che ci hanno fatto sentire tutti più vicini io volevo proprio ringraziare Berluti, lui lo sa, da bambino io l'ho coltivato da bambino quando lo conoscevano in pochi dato che è un langhetto, oltre che essere un grande artista è una persona molto intelligente e anche furbo un giorno arriva da me e dice ma sai arrivano tutti questi grandi pittori parlo di vent'anni fa arrivano tutti questi pittori e bisogna che ci sia la presenza di uno di Alba e dico c'è la tua presenza e ha contribuito anche a spiegare a questi grandi artisti che vengono nel mondo che noi ad Alba abbiamo delle capacità in tutte le norti tenute noi abbiamo una presenza sua perché questo è necessario e indispensabile e quindi Grazie a tutti.